Cosa rischi a essere un mercenario delle performance? Te lo spiego fra pochi secondi. Sigla! Ben trovati, lo chiamiamo lo saver, pillole di educazione finanziaria con link in descrizione per accedere a Welcome, che è un corso introduttivo gratuito per imparare ad investire. I mercenari delle performance sono persone che seguono le performance e quindi magari cambiano consulente a seconda delle performance passate. Tipicamente un mercenario cerca la performance e quindi va da un consulente che in un certo periodo di tempo, magari l'anno precedente, ha offerto risultati migliori. Questo può pagare nel brevissimo periodo perché dà un sollievo, io ho scelto il migliore, ma siccome il migliore di oggi non è il migliore di domani, perché c'è un meccanismo di ritorno in media e così via, il problema è che tu cambi in modo tardivo, per cui scegli un consulente che magari è l'apice del successo e ne abbandoni uno che in quel momento lì magari performa poco. Ma in verità poi succede il contrario, che il consulente abbandonato si risveglia e performa di più. Per che motivo succede questo? Beh, perché la performance dipende da un sacco di cose. Basta anche solo, per esempio, che uno avesse inserito il Nasdaq a fine 2022 o non lo avesse inserito, che già ti cambia di parecchio nel breve periodo. Magari nel lungo periodo scelte che il primo consulente ha fatto, che erano un po' più, diciamo, tranquille, più conservative, non hanno pagato, pagheranno quando tu però non sarai più lì perché avrai inseguito il sogno di quello successivo. Con questo è tutto, io ti auguro buona settimana, grazie per avermi seguito fino qui, e se ti interessa restare aggiornato su temi finanziari, iscriviti al mio canale e metti like se il video ti è piaciuto. Buona settimana e a presto!